buongiorno oggi partiamo da qua siamo andati a fare colazione e adesso torniamo dagli altri per poi iniziare lo stunt show tra un quarto d'ora ci vediamo in moto aspetta io un piccolo problema da moto il convogliatore si è un po aperto non posso scannare è scoppietta ragazzi grazie grazie ma va ma va ciao come va tu bene non si spesa lì ci fai scaldare ancora 5 minuti ci fai scaldare le gomme 5 minuti grande ecco come procede lo show di oggi una bomba qua abbiamo i due VIP hanno massato una pista prima di entrare in campo molto buona 2,50 la ruota anteriore è in testa sei il primo nico va bene sono il primo vai adesso vai vieni qua siamo i primi cosa facciamo carichiamo il pubblico come sempre fra noi siamo i primi noi siamo i primi ora i primi ascendi di chiamato 2,004 vengono sentire l'accordo per pubblico e non stiamo così le loro moto sono preparate da stunt come potete ben vedere l'usamerca porta la stunt bar il sano sul telaietto per poter tramettare queste acrobatie e anche Luca Gomi si può sentire così si può sentire così si può sentire ragazzi un appalato un piccolas attivato tocca al buon appalato davanti e la siederà anche la ruota e toccala voglio dire tutti a battere le mani ragazzi quella è roba facile quella che fanno loro che fanno no grazie tranquillo grande tutti al centro no grazie e siamo tornati così qua il tempo non promette bene e per il momento ci dovremmo allenare prima dello show 5 minuti ora faccio un po' di training con la musica sperando di poter andare in tempo che c'è un bambino che sta provando bella questa epizontata è anche bello questo cappino in questi giorni vi sto portando solo show su show non vi sto raccontando nulla riguardo questa fiera è una fiera che si tiene una volta all'anno il posto si chiama Lario Fiere il paese è Erba Erba City è una delle fiere che si tengono nella provincia di Como più grandi riguardo le moto e quest'oggi noi siamo dentro a girare spero che un video così vi possa piacere un sacco è un po' ingolfata devo girare devo girare se no rimane ingolfata scaldiamo le gomme finalmente ragazzi non vedevo l'ora bene dai riscaldamento sta iniziando procede tutto per bene tranne che l'asfalto non tiene proprio nulla ora iniziano Simo e Kevin paura guardate ragazzi minchia benvenuti nel mio ultimo turni giornata quindi ragazzi dopo questi clip molto probabilmente vi abbandonerò in misericordia il misericordio entra anche Nicola Sivati uuuuh e non c'è uuuuh cazzo la usa Berger uuuuh grandi grandi uuuuh grandi 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 vai te qua io dopo siamo pronti Nicola Sivati Nicola Sivati guarda in circola si prende gli occhi del pubblico insieme a Luca Comis che con il suo cinquantino alla stanza e lei pensa all'arena a fare circola anche lui fantastici questi due ragazzi dai via un applauso facciamoci sentire che per loro conta molto ritirà cosa sognare però Sì, 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 sì grande luca senza un break facciamolo burn out un po' 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 E' stato a fumare! Grandi! Ce l'abbiamo fatta! Anche questa volta vi ha dato il nostro show e tanta roba! E' stato bellissimo ragazzi! Mentre il nostro Andrea continua a farci un po' di stunt ride ignorante! Slimitando! Slimitata del CBR 600! Proprio così! E con la pola là dietro gli spalti che ci guarda! Dunque ragazzi, mi raccomando attivate la campanellina! Lasciate il mi piace! Perché qua, non scherziamo mica! Nel prossimo video! Ciao! 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 Grazie a tutti.